I balneatori si mobilitano per individuare una strategia condivisa sul futuro delle concessioni demagnali per uso turistico e ricettivo. C'è una proroga per ora fissata al 2020 e c'è un ricorso presentato da alcuni operatori che ha ricevuto il parere dell'avvocatura della Corte di Giustizia europea, secondo la quale la normativa italiana sarebbe contraria al diritto comunitario. Sono diversi gli incontri organizzati anche a livello nazionale per intraprendere una strada comune e garantire le attività delle imprese di un settore che in tutto il paese coinvolge quasi 30.000 operatori. Solo in Molise sono una quarantina gli stabilimenti aperti lungo la costa. Sicuramente come hanno già ribadito i presidenti nazionali dei principali sindacati del nostro settore e che abbiamo chiesto anche al ministro Costa nell'incontro ultimo a Marina di Carrara un doppio binario, semplicemente il rinnovo per 30 anni per ammortizzare i costi degli investimenti fatti fino a pochissimi anni fa da noi congestionari esistenti e invece già da subito nuove congestioni appunto come dice la direttiva Borsan che potranno andare a dividenza pubblica già da subito. Intanto gli operatori balneari sono impegnati per mettere in cantiere la nuova stagione e organizzare i servizi da offrire ai turisti in vista della prossima estate. Sicuramente non ci saranno grossi investimenti dal punto di vista nostro in quanto la direttiva Borsan, questa spada di Damocle che c'è su di noi ci impedisce di fare grossi investimenti. Faremo manutenzione ordinaria e ci stiamo già preparando per raccogliere i turisti della stagione 2016. Che stagione sarà? Sicuramente speriamo dal punto di vista meteorologico una stagione calda, almeno è quello che dicono finora sarà un'ottima stagione più calda anche degli anni passati. I prezzi resteranno invariati, l'ingresso libero come ogni anno e niente, attendiamo i clienti numerosi. Grazie.